Grazie Filippo Camerota di questa bellissima comunicazione all'intorno della bellezza, della proporzione che tocca il cuore della nostra riflessione. Mi è molto impressionato l'immagine dell'artista con due anime, diciamo, l'anima artistica e l'anima tecnica, matematica. E queste due anime fanno, diciamo, un profilo di credibilità dell'artista di questo periodo. Geometrizzare prima di disegnare, è chiaro, questo importa un cambiamento molto, molto importante rispetto alle prassi, le tecniche che sono state attabrate prima. Ma proprio tu parlavi di, diciamo, che l'adozione di questa nuova visione dello spazio controllabile in cui ogni oggetto ha un posto fisso, se ho capito bene, non significava una rottura con alcuni metodi che circolavano prima nelle botteghe. Si trattava piuttosto di un perfezionamento, diciamo, di qualcosa che già è stato adoperato prima, in modo più eterogeneo probabilmente, ma... No, un perfezionamento significativo, nel senso che la scuola giottesca aveva introdotto la prospettiva o la rappresentazione dello spazio tridimensionale. Però si trattava di costruzioni empiriche che ricorrevano a metodi geometrici, ma non fondati sulle leggi della visione. Per esempio, uno di questi metodi che viene criticato da Alberti del Depittura era quello per cui un pittore procedeva, disegnava la linea di terra, poi disegnava la seconda parallela a caso, poi divideva quello spazio in tre parti, ne prendeva due, le riportava sopra e disegnava la terza. Poi divideva quel secondo spazio in tre parti, ne prendeva due e procedeva così. Quindi questo metodo che Alberto chiama superbipartiente è basato su una proporzione geometrica, ma non corrisponde alle leggi della visione. Per cui la correzione importante era quella di fare in modo che il procedimento geometrico, in questo caso, nella diminuzione delle forme, seguisse le regole della geometria della visione, quelle codificate da Euclide, non tanto dagli arabi o dai perspettivi medievali che tenevano conto anche dei problemi di rifrazione dei raggi nell'occhio, quindi la cosa diventava molto complessa. Invece Euclide aveva modellato la visione secondo una forma geometrica molto semplice, che era il cono. Quindi esiste un punto nell'occhio, la bassa del cono nell'oggetto e una serie di raggi che definiscono la prospettiva. Questo esisteva fin dall'antichità. L'invenzione del Rinascimento è quella di immaginare un piano, che è il quadro del pittore, che taglia il cono. E quindi in quel taglio si forma l'immagine, un po' come un esempio che faccio spesso, ma perché rende chiara l'idea, come immaginare il fascio luminoso di un proiettore, tu non medi niente finché non ci metti uno schermo davanti. In quel caso si forma l'immagine. Quindi questa geometria doveva essere rispettata. Dopodiché si potevano usare anche varianti, come quelle che abbiamo visto, trasformazioni da un quadrato a un trapezio, seguendo diagonali e così via, però quel trapezio doveva essere disegnato secondo le leggi della visione. E in rapporto alla distanza e alla posizione dell'occhio. Solo quello. Poi il resto poteva essere cosiddetta mano libera. Prima di dare la parola a Jürgen, una piccola curiosità. Mi chiedo sempre cosa è capitato tra il primo disegno per l'adorazione dei magi, nel Louvre, e quello negli Uffizi. Perché nella versione del Louvre ancora non è questo rigor della rappresentazione del pavimento a scacchiera. E' legato al fatto che nella seconda versione degli Uffizi si concentra esclusivamente sullo sfondo architettonico? Secondo me sono due passaggi successivi. Il primo è uno schizzo, proprio uno schizzo di studio. Perché gli elementi ci sono tutti. Ci sono le due scale, le arcate, la tenda. C'è tutto. E sono invertiti. Ciò che sta a destra sta a sinistra. Chissà che questo non derivi da una trasposizione del disegno con lo spolvero. Ma no, non ha senso questo. Però gli elementi ci sono tutti. Ma è uno schizzo, quindi a mano libera, che butta giù le masse della composizione. Quello degli Uffizi invece è un progetto. Progetto esecutivo, anche se in piccola scala, della prospettiva. Solo della prospettiva. Da quel disegno lì, che è piccolo così, lui deve aver ricavato poi un disegno esecutivo grande quanto la tavola, che è di due metri e mezzo quasi. E quello poi ha riportato sulla tavola. Ma l'ha riportato anche in quel caso, probabilmente con la tecnica della carta carbone o con lo spolvero. Cioè lasciando dei segni che poi il colore ha portato via, per cui non si vede niente sulla tavola. Ma è chiaro dal disegno degli Uffizi che il processo costruttivo faceva capo a una costruzione geometrica molto precisa. Giulio Müller. Grazie molto per la vostra lectura. So, my question is, in all these treatises, are there different models of explaining the ideals? So, could they refer to Plato, to Euclid, to whoever there is? And is there a sort of variety within these models? So, if I refer to Nicolaus Cousanus, makes it a different, or to Plato. So, how would you describe the variety within those ideal conceptions? No, there are no references to other philosophers or mathematicians. The only one who is named, actually, is Euclid. Yes, yes. Because in the other cases, you have a philosophical point of view, which is not the point of interest for these writers. You can find something in Luca Pacioli, yes, but this is related to the humanistic culture. And it's important, of course, to talk about Plato, because the polyedron, they are just the shape of the universe according to Plato. There is no question of this. But the way in which the polyedron were described in the treatises is the way in which Euclid described them in the 13th book of the elements. Okay, thank you. You're welcome. Ci può un po' sviluppare un po' quello che si sa effettivamente di questo modello uronell-leschiano? Perché, insomma, è tutto per sentito dire, ma concretamente cosa ci può dire? Vedo che l'ha lasciato un po'... No, no, l'ha lasciato da parte perché non esiste il modello. Cioè, sappiamo quello che ha fatto, ma non sappiamo come l'ha fatto. Questo è il problema. Antonio Di Duccio Manetti, che è il nostro informatore dal punto di vista di ciò che ha fatto Brunelleschi in quegli anni, nei primi anni del Quattrocento, probabilmente, descrive le due tavolette così come le ha viste lui. Sì, lui è un testimone oculare, ancora c'erano, circolavano, poi sono scoparse verso la fine del Quattrocento. Ma le tavolette si sa come erano fatte e sono l'unico elemento che ci permette di capire un po' che cosa volesse dire Brunelleschi. Probabilmente, certo, siamo sempre nel campo dell'ipotesi perché questo Manetti non ce lo dice, non ci dice perché le ha fatte, dice che le ha fatte. Ed erano tavolette che mostravano ciò che l'occhio vede, ciò che l'occhio vede con un occhio solo. In quel caso lì l'occhio era uno solo, l'occhio unico era obbligato perché quella del Battistero aveva un foro, quindi uno doveva guardare attraverso quel foro. Per cui ciò che si vedeva con un occhio si vedeva anche nella pittura. Ed erano illusionistiche, nel senso che effettivamente rappresentavano ciò che l'occhio vedeva, tenendone chiuso un altro. Come le ha fatte? Non lo sappiamo. Potrebbe aver usato facilmente dei metodi di misura, come quelli che ha usato per disegnare le antichità romane insieme a Donatello. Di questo sì, se ne parla nella biografia che faceva Brunelleschi. Teneva davanti a sé un'asta graduata, uno strumento, non meglio identificato, non meglio descritto da Manetti, che aveva però delle graduazioni che corrispondevano a ciò che stava sul suo disegno. Un po' come avere una tavoletta graduata e uno strumento con la stessa graduazione della tavoletta. Si può pensare a quel disegno del Vignola, se ce l'avete presente, nel Trattato di Prospettiva, dove c'è uno strumento prospettico con delle graduazioni e poi c'è un allievo che disegna su una tavoletta quadrettata. Qualcosa del genere. Lui guardava ciò che vedeva attraverso questa misura, contava quanto era alta una colonna su quella misura e la riportava sul disegno. Quindi era un taglio della piramide emissiva, in effetti, fatto con uno strumento. E si poteva fare anche così la tavoletta del Battistero, quella di Piazza della Signoria, un po' laborioso. Però è ben probabile che lui abbia anche applicato quello che si ritiene essere il procedimento del taglio della piramide emissiva in piante alzato. Però non possiamo dirlo con certezza, sicuramente, ma non possiamo darlo per scontato. Cioè questo per anni è stato un fatto accettato. Da Panoskin poi si è accettata questa cosa perché non si poteva neanche contraddirla. Nel senso che non c'erano elementi per dire no, non ha fatto così. Oggi, dopo anni di studio, comincia ad avvenire fuori degli aspetti del lavoro nelle botteghe, che è legato poi alla geometria che è tramandata nei trattati d'Abaco, e si capisce che nelle botteghe c'erano dei procedimenti geometrici alternativi. La stessa Sinopia di Paolo Cello ci parla di qualcosa di alternativo sia a quello che si suppone il metodo di Brunelleschi, sia a quello che è il metodo di Alberti. Per cui, cercando di cancellare un po' quella che è l'immagine imposta dalla storiografia e basandoci su ciò che si conosce di quell'epoca, dai documenti, e mi riferisco soprattutto alla geometria dei trattati d'Abaco, quindi dei trattati di geometria pratica, le figure geometriche che si vedono là dentro, ecco uno può farsi un'immagine di un procedimento che è simile a quello poi descritto da Piero della Francesca, ma che contiene degli elementi di non aderenza fedele alle leggi della visione. Non è detto che questo fosse nella mente di Brunelleschi. Lui stava cercando, secondo me, ma questo ovviamente di nuovo è un'opinione, secondo me stava cercando di dimostrare un elemento preciso della prospettiva, uno, che era quello fondamentale, quello di cui parlavano i filosofi medievali, di cui parlava Biagio Pelacani negli stessi anni a Firenze, che era appunto la figura di riferimento per gli studi ottici, ed era la distanza di osservazione, cioè qualsiasi cosa può essere rappresentata, ma deve essere rappresentata in rapporto alla distanza dell'occhio, di chi guarda. Se non c'è questo rapporto con la distanza, non esiste neanche una geometria prospettica, non esiste una prospettiva. E questo problema della distanza, dell'importanza della distanza nella costruzione prospettica, viene fuori effettivamente dal discorso di Manetti, perché Manetti dice che le cose che si vedevano, l'immagine che si vedeva sulla tavoletta del Battistero, corrispondeva a ciò che l'occhio vedeva, l'occhio di chi guardava stando sulla porta centrale del Duomo, con quella distanza in braccia piccolina, dice che c'era tra chi guardava il Battistero, cioè con una rappresentazione in scala della stessa distanza, quindi fa riferimento a questo fatto fondamentale. E le due tavolette che cosa dicono in effetti? Se io guardo attraverso il foro di una tavoletta, stando dietro nel caso del Battistero, e vedo il Battistero vero davanti a me, poi metto lo specchio per guardare il Battistero riflesso, io non vedrò mai lo specchio uguale alla realtà, naturalmente lo specchio secondo me deve stare slittato un po' lateralmente per poter vedere le due cose insieme, vedrò il vero e il dipinto uguali solo quando con lo specchio ha raggiunto una certa distanza, ed è la distanza con la quale Bronleschi, o il pittore, ha dipinto la tavoletta. Nel caso della tavoletta di Piazza della Signoria, l'effetto è lo stesso, in quel caso non c'è un buco da cui guardare, però gli edifici erano scontornati nella parte alta, per cui l'osservatore doveva allontanarsi dalla tavoletta e sovrapporla otticamente agli edifici veri, allo skyline degli edifici veri, in modo tale da far coincidere le due cose. Quando lui aveva raggiunto quel punto, aveva raggiunto la distanza con la quale il pittore aveva dipinto quella tavoletta, per cui l'elemento fondamentale è sempre quello, la distanza, ed è quello su cui insistono tutti i trattatisti, fino all'età moderna, fino a oggi, fino alle scuole d'architettura, non si fa altro che parlare di questo, è un elemento fondamentale. Quindi probabilmente quello interessava a Bronleschi rendere chiaro, dopodiché il modo in cui tu lavori, dopo aver stabilito questa prima figura proporzionale, che era il pavimento scorciato, diciamo così, per Alberti, il modo in cui tu lavori per realizzare tutto il resto, interessa meno. L'importante è che sia basato su una figura proporzionale, precisa e otticamente definita. Questa discussione è molto interessante, ma temo che dobbiamo andare avanti con l'ultima comunicazione. Grazie ancora. Grazie a voi. Ora, Jürgen Müller, professore di storia dell'arte all'Università di Dresda, ci propone come titolo dell'ultima comunicazione con la quale conclude la nostra manifestazione, Bruegels kleinformatiche Grissai-Malereien e le romantiche ideale del Floris-Kreis. Du sprichst Deutsch, Jürgen?